1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 4 3 4 5 5 6 7 e che quindi passaggio di torsino e che tutti i detti tirano scopo che andrà a vare verso te e che ti dare la giusta va vai vai di una vado dio dio grazie 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 Sì, non so, non so, non so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.